Io ho poco da integrare perché la parte per la quale ha contribuito il Ministero dell'Interno è appunto limitato, come già il Presidente ha detto efficacemente, alla introduzione di una fattispecie specifica di reato. Come il Presidente ha già accennato, abbiamo optato per la proposizione di una fattispecie di reato che disse conto anche un po' della natura giuridica, un po' della natura proprio anche fattuale degli eventi che si verificano rispetto a quella che era la previsione originaria del reato del 633 del Codice Penale, che risale insomma nella sua concezione, nella sua genesi anche a quasi 100 anni età. E quindi abbiamo concepito, su questo ringrazio il collega Nordi e il sottosegretario Mantovano, quindi con il contributo qualificato anche della loro esperienza, abbiamo quindi strutturato questo intervento normativo che in buona sostanza, come accennava il Presidente, prevede la fattispecie specifica delle invasioni di terreni ed edifici finalizzati a raduni di oltre 50 persone da cui possano derivare i pericoli per l'uncolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica. Quindi capirete, anche se descritto così in maniera, seppure sommaria, ma insomma abbastanza tecnica come fotografa, soprattutto gli eventi che qualifichiamo come riveparti. Ci siamo mossi, ci stavamo già lavorando, era già in previsione che proponessimo questo, i requisiti di necessità e urgenza, li ravvisavamo nel fatto, drammaticamente confermato nella giornata di ieri, che probabilmente l'assenza di una disciplina normativa efficace nel nostro Paese, mentre i Paesi, noi limitrofi, dispongono di un quadro normativo particolarmente efficace, insomma di sanzioni di questo tipo di fatto, ci rendeva particolarmente vulnerabili, come a me la cronaca degli ultimi anni testimonia. E peraltro si tratta di un reato, di eventi che non solo sono molto pericolosi per le stesse persone che li commettono, ma sono molto dispendiose anche per l'impiego delle forze dell'ordine che ne consegue. E quindi abbiamo deciso di proporlo, l'avamo già deciso, ovviamente l'evento di ieri ha fatto, ha reso evidente insomma una sorta di coincidenza specifica.